Seconda edizione raddoppiano le presenze. E' stato un successo questa volta annunciato la seconda edizione dello Shopping Day in Corso Italia IV, dove i commercianti del Centro Commerciale Naturale del Corso hanno organizzato sabato 25 luglio una festa a tema estivo. Come nella scorsa edizione, negozi aperti fino a mezzanotte, tantissima musica, animazione e street food. L'evento, che punta a diventare un appuntamento fisso da ripetere magari una volta al mese, ha lo scopo di rilanciare l'economia del corso principale del Comune di Quarto, che vive da tempo un momento di crisi, dettata da una generale recessione economica, ma anche dalla presenza di centri commerciali e megastore, che in qualche modo hanno danneggiato le attività di vicinato, indotte oggi a prendere il meglio dai grandi ipermercati, garantendo però anche quelli che sono i pregi dei piccoli esercizi commerciali. Ed è così che nasce il Centro Commerciale Naturale del Corso, una fucina di idee e di iniziative, tutte incentrate sull'idea di fondo, che per sopravvivere alla recessione bisogna consorziarsi, stare insieme e proporre ai clienti promozioni e sconti, oltre che eventi aggregativi. Ed in effetti gli avventori di sabato scorso si sono detti entusiasti di riscoprire negozi sotto casa, con i quali si ha anche il vantaggio di instaurare un rapporto di fiducia reciproca. Ed è stato molto apprezzato anche il ricchissimo programma di spettacoli, dall'animazione per i più piccoli, con il ventrilogo ed il mago, che hanno saputo intrattenere anche i grandi, agli spettacoli come quello di Karma Fire, un'affascinante danza di fuoco che ha lasciato tutti a bocca aperta, alla musica dei due complessi rock e di musica leggera. Insomma, un'iniziativa vincente per rilanciare non soltanto il commercio locale, ma anche la voglia di essere parte di una comunità vive e attiva, come ha affermato anche il sindaco di quarto, Rosa Capozzo, che ha voluto presenziare all'evento. La serata è bellissima, c'è un sacco di gente, è un'iniziativa che abbiamo curato da tempo, da febbraio, che si è svolta già un'altra volta, è bellissimo. Quarto inizia ad essere di nuovo un centro di aggregazione, la sera le persone iniziano a scendere per strada, stanno passeggiando, è bello. Quarto non offriva niente, questo è solo l'inizio, poi pian piano inizieremo di nuovo a vivere quarto come deve essere vissuta.